Un marchio storico che a partire dagli anni 70 ha adottato con successo la formula del franchising è Salmo Iraghi e Viganò, un insegna che da oltre 150 anni per 7 italiani su 10 è il negozio di ottica per definizione. Al di là della tradizione, lo stile, la professionalità, il design da l'avanguardia, l'elevato standard di servizio, la modernità e la dinamicità dell'azienda si riflettono nei 240 negozi che formano la più grande catena ottica d'Italia. La chiave del successo di Salmo Iraghi e Viganò, tra le altre cose, è proprio il punto vendita. Il punto vendita che si deve trovare e si trova sempre nelle zone di grande interesse commerciale, sia nei centri cittadini che nei centri commerciali appunto. All'interno del punto vendita il consumatore fa un'esperienza d'acquisto decisamente diversa e innovativa. Innanzitutto viene a contatto con il nostro assortimento che è un assortimento che si caratterizza dal fatto di essere innanzitutto selezionato dal nostro ufficio stile che seleziona per i nostri consumatori il migliore prodotto disponibile sul mercato europeo, sul mercato nazionale, sul mercato internazionale. Inoltre proponiamo anche un ampio assortimento di proposte disegnate da noi che rappresentano il nostro prodotto esclusivo che si può trovare evidentemente solo nei negozi di Salmo Iraghi e Viganò e che sono un forte elemento caratterizzante della nostra proposta commerciale. Accanto a questo assortimento naturalmente Salmo Iraghi e Viganò sviluppa continue ricerche di innovazione sui prodotti in campo oftalmico come le lenti oftalmiche appunto e le lente contatto per trovare la migliore soluzione per il benessere visivo del consumatore stesso. L'imprenditore che si affida a Salmo Iraghi e Viganò ha un'assistenza importante, partecipa a tutte le iniziative che Salmo Iraghi e Viganò fa per sostenere l'insegna e per sviluppare il proprio fatturato e il fatturato del gruppo di conseguenza, quindi partecipa a tutte le iniziative di marketing che vengono fatte, partecipa ai programmi di formazione che sono realizzati per mantenere il personale e quindi se stessi, l'imprenditore allineato con le nuove evoluzioni del mercato, partecipa a iniziative di natura commerciale rivolte al consumatore finale e naturalmente tutto questo produce un risultato commerciale sicuramente interessante per l'imprenditore che riesce a sviluppare fatturati importanti, significativi, talvolta anche doppio rispetto alla media di quello che un imprenditore singolo sul mercato riesce a ottenere come ottico indipendente. Sicuramente un'assistenza completa per chi desidera essere imprenditore, un'assistenza che copre aspetti professionali, che copre aspetti economici e finanziari per stabilire qual è il format di negozio, la dimensione del negozio più idonea, ricerche di mercato per stabilire dove poter sviluppare il progetto. Direi che i vantaggi per un imprenditore in generale, naturalmente anche non ottico, è quello comunque di entrare in un mercato sicuramente in evoluzione, un mercato che offre ancora grandissimi spazi di espansione dove ancora esiste una forte frammentazione e quindi è possibile conquistare quote di mercato aggregandosi a un insegno importante come Salmaray Viganò. Saper sposare la filosofia di Salmaray Viganò è il modo con cui Salmaray Viganò si propone al mercato e al consumatore, che è l'elemento vincente che fa una formula imprenditoriale come quella affigliata di Salmaray Viganò, una formula di successo.